Ti ucciderò, hai capito? Figliolo, sapevo che saresti tornato. Ti prego, ascoltami. Prendi questo, ti aiuterà e ti proteggerà dal male. Prega per me, figlio mio, e promettimi che seguirai la retta via. Promettimi di dedicare a essa la tua vita. Promettimi di seguire la tua vera vocazione. Promettimi. Ti prego. Prometto. Lei è stato un buon amico per me, padre. Ma ora devo andare. Posso essere più utile altrove. Figliolo, abbi cura di te e tieni questo crocifisso come il ricordo che ti protegga sempre dal male. Ora e per sempre. Grazie, padre. Ora devo andare. Ho sempre saputo di non appartenere a questo mondo. Non sopporto di vedere gli alleati trasformarsi in traditori. Ma non dimenticherò chi mi ha tradito e coloro che non hanno mai deluso la mia fiducia. Lascerò Gontranno con queste idee ben chiare. Mai fidarsi di nessuno. Contare solo sui propri istinti. E dimenticare il passato. Non troverò mai la pace qui. E allora cercherò la giustizia da solo. Sceglierò la verità che preferisco. Grazie.